In questo nuovo video, noi di Punto3 abbiamo il piacere di mostrarti approfondire una funzione specifica di SOS CAM, software per l'ottimizzazione del servizio di pulizia in chiave CAM. Se ancora non l'hai fatto, ti invitiamo a vedere il video generale relativo alle principali funzionalità della web app sul sito www.soscam.it o direttamente sul canale YouTube di Punto3 cliccando sul link in descrizione. In questo video vorremmo mostrarti una delle principali novità di SOS CAM per quanto riguarda la sostensione a nuovi ambiti di simulazione, ossia l'ambito rotabile. All'interno di un cantiere rotabile è possibile simulare un cantiere di pulizia sia sul materiale rotabile, inteso come treni, sia sugli impianti di manutenzione. Innanzitutto è possibile scegliere un tipo di visione passeggeri, tra VPR, divisione passeggeri regionale e DPLH, divisione passeggeri long haul. Inoltre, lo stato del cantiere, che si aggiorna automaticamente sulla base degli input dell'utente, si suddivide fondamentalmente in due parti. Una prima parte, relativa al PAP impianti, dedicata appunto agli impianti di manutenzione dove vi è un resoconto degli interventi e delle aree che costituiscono gli impianti simulati nel cantiere. Una seconda parte, relativa invece al PAP rotabile, riepiloga i dati sul materiale rotabile, mettendo in risalto interventi ed elementi attesi annualmente, intesi come numero di treni. Andiamo ora a vedere insieme come questo riepilogo si è aggiornato sulla base degli input di costruzione di un cantiere rotabile. Per costruire un cantiere rotabile in SOS CAM è necessario introdurre l'elemento chiave in questione, cioè il PAP. Il piano annuale delle prestazioni rappresenta il piano dei lavori che saranno eseguiti nel cantiere e dunque simulabili in SOS CAM. Esistono due tipologie di PAP a seconda che si tratti di materiale rotabile o impianti. entrambi sono accomunati da un elenco di prestazioni con le rispettive frequenze sull'annualità e si differenziano dal fatto che quello per il materiale rotabile indica la composizione del convoglio, mentre per gli impianti sono riportati gli ambienti e le metrature associate. In SOS CAM abbiamo creato un'interfaccia ad hoc in grado di dialogare con il PAP in formato XLS, quindi come un foglio Excel. Inoltre il software possiede un database unico nel suo genere, contenente le metrature della maggior parte del parco treni circolanti in Italia e costruito grazie ad un preciso e meticoloso lavoro di campionatura realizzato a partire da layout importati in AutoCAD. Grazie a queste due peculiarità del software, l'importazione del PAP è stata resa automatizzata. Infatti, copiando i dati da un foglio Excel, è possibile importarli in SOS CAM tramite un semplice copia-incolla. È inoltre possibile anche indicare i metri quadri mese stimati per quanto riguarda la rimozione graffiti o indicati all'interno del PAP come una stima mensile, ad esempio in questo caso 1500 metri quadri mese. Se il software non segnala nessun errore di compilazione, è possibile salvare il tutto. E l'operazione di importazione si può considerare conclusa. Analogamente, è possibile importare un PAP impianti sempre tramite la procedura di copia-incolla da sorgente Excel esterna. Una volta importati i PAP, è possibile consultare la tabella riassuntiva. Per quanto riguarda i rotabili, è possibile per singola prestazione andare a visualizzare qual è il dettaglio dei modelli associati e anche il numero di elementi attesi annualmente, cioè il numero di carrozze pulite con quella specifica prestazione in un anno. Analogamente, per quanto riguarda gli impianti, è possibile andare per singola prestazione a visualizzare qual è il dettaglio degli ambienti puliti, le superfici complessive associate a quella prestazione e la stima delle superfici pulite annualmente, sempre in metri quadri. Un punto di vista maggiormente dettagliato sulle superfici pulibili è fornito dalla funzionalità Quadro previsionale superfici pulite. Cliccando sull'apposito simbolo, è possibile visualizzare una nuova finestra in cui vengono messe in luce tutti i punti di forza di SOS CAM come calcolatore. Infatti, una prestazione viene correlata con le metrature al dettaglio per elementi superficiali di una singola tipologia di treno. I valori numerici riportati in tabella sono dunque il frutto di un incrocio tra dati disponibili nel database di SOS CAM unico nel suo genere e le frequenze di lavoro importate tramite PAP. Questa disponibilità di dati fornisce quindi ad SOS CAM una grande potenzialità in termini di oggettività di calcolo, andando quindi ad avvicinarsi alle esigenze realistiche del cantiere. Ci auguriamo che questo video ti sia piaciuto. Per vedere gli altri video tutorial di SOS CAM vai sul sito www.soscam.it o sul canale YouTube di Puntotre. Puoi anche richiedere la tua demo gratuita scrivendo a soscam.it. Infine, per rimanere aggiornato sulle novità del green cleaning e su promozione e sviluppi di SOS CAM iscriviti alla nostra newsletter dal sito di SOS CAM o tramite il link in descrizione.